Ma veramente questo te lo porti a casa e come dice lui, non è magnifico? Sì, sì. Allora... Auguri! Dai! Dai, fai un desiderio e spegni. Devi, esatto. Voi, Odivino Delma, direttore dei lavori. Andrea Leoscas alla capocantiere, addettore dei gatture. Auguri! Questa torta è carissima. Lui, non sono io carissima. È finta questa torta. Sì, non importa. No, non importa, è bello proprio. È bella, sì. Perché questo ce la farai sempre. No, ma poi è bellissima. E veramente come ha detto lui, quando hai bisogno di fare un desiderio, lo accendi, fai il desiderio. E qui c'è la torta vera. Tanti auguri a te! No, è scemo totale! Oddio! E non hai capito una cosa? Ha scritto il mio nome, al contrario. Perché? Perché non c'è scritto Anitta. No, c'è scritto tanti. Ah, scema! Ah, ma guarda che io leggo il mio nome al contrario. Lo sai che leggo il mio nome al contrario, veramente? Sì, perché c'è la T, la A, la N. Ma non c'è solo una A, veramente. È bellissimo. Aspettiamoli. E questi qui, invece, sono in anuance come la torta. Che bravo! Dai, ma sei troppo carino! È bellissimo! Non vado a disturbare così tanto! Ma questo veramente, hai capito che devi fare? Sì, va bene! Come? Sì, va bene! Ah, ci saranno 100, saranno 145. Ecco, molto bene! Vuoi fare un saluto agli amici di Facebook? Sì, dai! Guardate che figa! Oh Dio mio! Non sapevo che se la prendevo, mi presco l'accendino! Chi lo dice non lo è, ricordati sempre! Eh beh, se vuoi, vuoi che mi tiro giù il pantalone? Chi non lo dice è un falso! Meno male che non registra la voce, sennò era da Dio quasi! Registra anche la voce! Sì, brutto bastardo! E allora fuggiamoci sopra! E vai! E vai! Auguri ancora! Questo è bellissimo! Grazie Mele! Questo è bellissimo! Siete stati veramente bellissimi! Hai capito che devi fare con questo? Non sono rintronata eh! Ahahahah!